è terminato il terzo tempo 1 a 1 se non erro è vero? ecco adesso c'è il fair play il terzo tempo è terminato 1 a 1 ok c'è stato il fair play allora il primo tempo è finito 1 a 0 con rete di Leo il secondo tempo 2 a 0 con doppietta di Edo il terzo tempo 1 a 1 ha segnato prima se non erro Leonardo il short down 1 per parte grazie grazie grazie